Ce l'avete fatta! Mi avete salvata! Siete straordinario! Siete meraviglioso! Siete... Un tantino poco ortodosso lo ammetto, ma il vostro gesto è grande, il vostro cuore è puro. Vi sarò eternamente riconoscente. E dove andrebbe un audace cavaliere senza il suo nobile destriero? Oh, beh, spero, hai sentito, mi ha chiamato nobile destriero. Mi crede un destriero. La battaglia è vinta. Potete togliervi l'elmo, mio buon cavaliere. Oh, no. Perché no? Ho i capelli tutti schiacciati. Ve ne prego, vorrei guardare il volto del mio salvatore. Non è il caso. Ma... come farete a baciarmi? Cosa? Non c'era nel programma di lavoro. Forse è una gratifica. No, è il destino. Oh, vi avranno detto come va la storia. Una principessa, chiusa in una torre e assalita da un drago, viene salvata da un audace cavaliere. E poi si scambiano il primo bacio di vero amore. Con Shrek? Credi? Ferma, ferma, ferma un istante. Per te Shrek è il vero amore? Ecco... Sì. Ma se te Shrek è il vero amore? Cosa c'è di tanto buffo? Diciamo solo che non sono il tuo tipo, va bene? Certo che lo siete. Siete il mio salvatore. Ora, rimuovete il vostro elmo. Senti, non credo davvero che sia una buona idea. Prendetevi quell'elmo. No, non lo farò. Toglietevelo. No. Adesso. D'accordo. Calma. Ai tuoi ordini, altezza. Sei... Sei... Un orco. Oh, ti aspettavi il principe azzurro, vero? Beh, sì, a dirla tutta. No. Tutto sbagliato. Tu non dovresti essere un orco. Non dovresti essere un orco.